Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui con della pizza e magari vi starete anche chiedendo il perché, però comunque siamo su Clash Royale. Ho dovuto specchiare la mia cam perché starò tipo girato così per far spazio alla pizza, cioè non avendo l'iPad dritto a me ce l'ho tipo di lato e quindi di conseguenza ho dovuto specchiare un po' la cam, quindi se vedete lo sfondo al contrario, cose strane, insomma, è quello. Oggi andremo a riprendere una mia vecchia serie di Brawl Stars dove ad ogni nuovo brawler mangiavo qualcosa ed è stata una delle serie più amate del mio canale. Oggi, dato che dobbiamo tornare a shoppare su Clash Royale, ho deciso di riproporvela su Clash Royale. Tra l'altro ringraziate Serena che ha sconfitto la mia pigrizia facendomi mettere la cam sulla pizza, perché io di solito non le mettevo perché sono abbastanza pigro. Grazie Serena. Prego. Detto questo ragazzi, ora abbiamo queste 30.000 gemme qui, diciamo 28.000 perché sono 28.000, ci andremo ad aprire i bauli del re leggendario e in quali occasioni devo mangiare la pizza? Tra l'altro mi sta già venendo l'acquolina in bocca perché ho troppa fame. Ogni volta che ci esce la regina, che probabilmente è la campionessa più ricercata in questo momento, però qual è la cosa bella? È che io ce l'ho già maxata la regina, ora troverò un deck, eccolo qui, vedete? Ci abbiamo la regina maxata, quindi ovviamente non l'andrò mai a scegliere, sceglierò sempre il re degli scheletri o il cavaliere d'oro, mi sembra ovvio. Però comunque ogni volta che esce lei io dovrò mangiare un pezzo di pizza. Mi raccomando, lasciando un bel mi piace per altri video del genere dove devo andare a mangiare, magari iscrivetemi in quali occasioni devo andare a mangiare, iscrivetemi cosa andare a mangiare, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, ma soprattutto vi ricordo il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop Clash Royale, fondamentale per supportarvi, lo trovate in fondo nello shop. Detto questo ragazzi, ci sono molte probabilità di trovare la regina, ci sono due possibilità su tre, cioè praticamente abbiamo un quasi 70%, un 66, vabbè, cose per cento di trovarla ad ogni chest e quindi andiamo. Partiamo ragazzi, let's go. Sono un po' emozionato perché era tanto che non facevo un video col cibo e diciamo che i video col cibo hanno fatto un po' anche la storia del mio canale, soprattutto su Brawl Stars, come vi dicevo prima. Comunque andiamo veloci nella parte dei jolly perché chi se ne frega, però da qui no, da qui si inizia a scegliere. Andiamo a prendere ovviamente quelle carte che non possiamo ancora maxare. Ho utilizzato i jolly per conto mio, infatti se vedete abbiamo già delle carte che possiamo potenziare. Per quale motivo? Perché ho deciso prima di fare questo chest opening di potenziare più carte possibili, così che in questo chest opening tutte quelle carte che posso già potenziare almeno ci andiamo a prendere l'oro. Poi vi ricordo che in realtà le epiche le possiamo già maxare tutte da qualche giorno, ho già fatto pure un video. Detto questo, quindi ci manca un sacco di oro ragazzi, ma proprio tanto, tanto, tanto oro. Qui ragazzi ha due leggendari che potevamo già portare, quindi peccato, però almeno ci facciamo una bella scorpacciata di oro. Attenzione, vediamo se esce già la regina degli erce... Nooo, ma già, non ci credo. Tra l'altro sono anche curioso di vedere quanto oro ci becchiamo andando a scegliere il campione che abbiamo già maxato. Chiaramente non la devo poi andare a scegliere, ce lo fa vedere sotto, quindi non devo poi sprecare una scelta, ma possiamo vederlo. Regà, vado di cavaliere d'oro, dai, andiamo di cavaliere d'oro. Il re degli scheletri sto vedendo che sta facendo un po' di fatica ad entrare nel meta. L'unico campione che effettivamente entrava nel meta probabilmente è la regina, anche se secondo me nelle prossime settimane qualche cosa cambierà. Non a livello di bilanciamento, perché non lo so se andranno a ritoccare qualcosa, ma secondo me a livello di deck. I prosi stanno un attimino iniziando ad aggiornare, secondo me, su tutta questa storia, se non l'hanno già fatto, eh. Allora, qui ovviamente spiritello elettrico. Qui andiamo di spiritello invece del ghiaccio. Gabbia per goblin, regà, che sta diventando una carta stra-mega utilizzata. Qui è uguale, quindi a questo punto andrei ovviamente di gigante elettrico, almeno ci becchiamo anche i punti stella. Non ce li dimentichiamo dei punti stella. Vediamo un po' la leggendaria. Di nuovo, di nuovo due leggendarie che posso già potenziare. Ne abbiamo qualcuna che dobbiamo ancora trovare per poterla portare al 14, ma va bene. Allora, per me è meglio, nel senso, io la regina ce l'ho già maxata, quindi in realtà il gioco in questo caso mi sta facendo un favore, e va bene. Però, il fatto è che, tecnicamente, noi questo video lo stiamo facendo appositamente per trovare la regina degli arcieri per mangiare la pizza, ragazzi. Ma se continuiamo così, regà, non la pizza, mi sa che non la tocchiamo. Ma io c'ho fame, però. Io c'ho fame, ragazzi, quindi per favore fatemi uscire sta regina degli arcieri, maledizione. E dai, ragazzi, non facciamo i birichini. No, forse era meglio il razzo, lo utilizzo di più rispetto al gigante. Vabbè, scelte sbagliate, ci stanno. Vediamo la leggendaria, un attimino, principessa o drago infernale. Di nuovo, ma io invito un attimino a rivedere le leggendarie. Non è che già tutte le posso portare al 14? Boh, me la devo rivedere, sta roba. Vediamo un po'. Oh, alleluia. Allora, il campione già maxato, andando da scegliere, ti dà 40.000 di oro, ragazzi. Un botto, calcolando che il baule del re leggendario in Arena 14 non cambia di costo. Sono sempre 2.500 gemme. Quindi, praticamente, è come se comunque con questo aggiornamento dei livelli 14 e della regina siano stati potenziati, perché sono più potenti di quelli passati. Detto questo, col microfono andrò forse un po' a coprire la pizza di qua, ma tanto noi andremo a prendere quest'altra. Purtroppo si è già un po' raffreddata. Ci sono le patatine e la salsiccia, però vi dico che in realtà mi sono sbagliato. Pensavo ci mettessero le patate, non le patatine fritte. E vabbè, regà. Ci sta. Fredda, ma non troppo. Tra l'altro, ragazzi, per chi mi segue su Instagram, il meme dei piatti neri. Poi un giorno ve lo spiegherò per quelli che non lo stanno ancora capendo. Però per chi mi segue su Instagram già lo conosce, il meme dei piatti neri. Comunque è buona la pizza. È buona la prima volta che la ordinavo in questa pizzeria promossa. Tra l'altro mi stanno facendo notare dalla chat, perché questo video lo sto registrando in live sul sito Viola. Trovate il link in descrizione per venirmi a seguire. E io, essendo specchiata la webcam, ma le mani non sono specchiate, è come se io stessi usando la mano destra, però dalla fotocamera sembra la mano sinistra. Fa ridere. Comunque, il primo pezzo è andato. Ci puliamo le mani, regà, perché se no faccio un casino. E comunque, regà, dopo tutto questo casino, ci andiamo a prendere il Cavaliere d'Oro. Detto questo, andiamo a mano. Baule del Re Leggendario. Let's go. Allora, oro. Jolly. Jolly, 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 Jolly. Va benissimo, va benissimo. Qui direi, ovviamente, Torre Infernale, regà. Anche perché la Guaritrice la possiamo già portare al massimo. Qui, ragazzi, io direi come un corda di sgherri. Direi come un corda di sgherri. No, regà. Tirare ne ho veramente tantissime da dover portare su. E mi capitano proprio due che le abbiamo già al massimo. Vabbè, le epiche, come al solito, le abbiamo già tutte. Anche qui, ovviamente. Andiamo, vediamo un po'. Ah, non ho visto le leggendarie, regà. Non ho visto la situazione delle leggendarie. Eh, vabbè, peccato. Eh, vedete, c'è qualcuna. Ce n'è qualcuna che dobbiamo ancora trovare per provarla a portare su. Allora, vediamo i campioni. Vediamo un attino che cosa ci esce fuori. Eccola qui. Stessa scelta di prima, eh. Stiamo a fare sempre le stesse scelte. Ovviamente ci andremo a scegliere il cavaliere d'oro come prima, ma prima, appunto, dobbiamo mangiarci la pizza se non ci cadono tutte le patatine che dopo mi vado a recuperare. No, regà, si è distrutta tutta. Sta patatina ha distrutto tutto. Vabbè. Ah. Dopo mesi di questa nuova postazione non avevo ancora sporcato nulla. Dove arriva sta patatina che mi ha distrutto sto pezzo di pizza e mi sa che ho macchiato la sedia. E vabbè, fratelli, dove andrà così? Niente, regà. Sto pezzo di pizza non vuole proprio essere mangiato. Vabbè. Arriviamo all'ultimo boccone. Ok, regà. E anche il secondo pezzo di pizza è andato. Ci andiamo a scegliere il cavaliere d'oro e andiamo col prossimo baule del re leggendario. Andiamo col prossimo baule del re leggendario che mi sa che siamo già quasi a metà, eh. Dovrebbe essere il quinto. Ho fatto un calcolo, mi sa, ne possiamo aprire. Forse no. Beh, oddio. Forse 11-12 ne riusciamo ad aprire. Vabbè, non ci facciamo sti calcoli. Troviamo ste regine e via. Allora. Scheletrini da 1. Let's go. Tesla. Sì, devi andare di Tesla. Spirito del Fuoco. E contro le torri a livello 14 e a livello 13 è inutile, praticamente. Qui, regà, io vado di cabbia per Goblin. Basta. La sto utilizzando un sacco, quindi la voglio provare a potenziare. Drago elettrico. Anche se tanto, per quanto riguarda l'epiche, vi ribadisco, è uguale. Eh. E vabbè. No, qua mi sa pescatore. Sì, perché appunto non lo potevo ancora portare al 14. Vediamo i nostri carissimi campioni. Oh, ma sempre la stessa scelta c'è sta a far fare. Cioè, apparentemente, se io stavo cercando il re degli scheletri, non ce l'avrebbe dato manca una volta, se non alle prime scelte. Però avevo scelto appunto il cavaliere d'oro. Ok. Allora, per evitare i problemi di prima, io a sto punto sta patatina me la vado a mangiare così. Ok? E via. Eh, almeno, regà, non mi sei distrutto tutto il pezzo di pizza. Che cavolo. E andiamo, signori, con l'ultimo pezzetto del terzo pezzo di pizza. Ok. Allora, siamo partiti un po' male, perché sembrava che sta regina degli arcieri non volesse proprio uscire. Però, alla fine navi adesso non ci possiamo lamentare. Su cinque chest ne abbiamo trovata tre volte, se non sbaglio. Andiamo a vedere la situazione delle leggendarie. Beh, oddio, effettivamente sono pochine quelle che dobbiamo ancora portare su. O meglio, portarle su, le dobbiamo portare su tutte. Però sono poche quelle a cui servono ancora le carte per poter essere maxate, ecco. Quindi, andiamo col prossimo po' del re leggendario. Adesso, però, voglio provare a scegliere il re degli scheletri. Perché, comunque, possiamo potenziare il re, o meglio, il cavaliere d'oro a livello 13, mentre il re degli scheletri sta rimanendo abbastanza dietro. Quindi adesso vorrei cercare di trovare un po' più il re degli scheletri, ma per adesso non ce lo sta praticamente spammando. Qui vado di pipistrelli, che li sto utilizzando spesso. Il domatore è già potenziato, quindi andiamo di stregone. Qua è letteralmente uguale. Anche di qua è letteralmente uguale. La leggendaria, abbiamo visto che qualcuna da dover portare ancora 14 c'è. E di nuovo il pescatore, ragazzi. Di nuovo il pescatore. Andiamo di nuovo col campione. Vediamo un po' quale esce fuori stavolta. C'è di nuovo la regina degli ercieri. Ma perfetto quel re degli scheletri, ragazzi. Perfetto quel re degli scheletri. Quelle patatine sono tante e piccoline. Quindi spero di poter piegare bene la pizza. Spero si mantenga. Ed effettivamente si sta un po' rompendo. Ma resiste, dai. Ok. E siamo arrivati all'ultimo boccone anche di quest'altra cesta. Bene. Un piatto è finito. Quindi facciamo un attimino un change. Tranquilli perché tanto ho altra pizza. Ne ho ordinate due per questo video. Anche se probabilmente me ne basterà solo una. Non lo so. Vedremo. Detto questo andiamo a scegliere, come vi dicevo, il re degli scheletri. Sarebbe top riuscire a trovare adesso almeno altre quattro volte il re degli scheletri. Possiamo aprire altre cinque... Eh, beh. Si inizia a far sentire la pizza. Singhiozzetto. Stavo dicendo. Ci mancano altre cinque ceste. Se ho fatto in maniera corretta i conti. Ok. E allora. Allora, allora, allora. Bombarolo. Ovviamente. Non è puoi dire spiritello. Poi, poi, poi. Eh, goblin. Perché la scena epirotecnica lo possiamo già potenziare. Sì, il goblin cerbottanieri. Voglio trovare tantissimi. Tanti goblin cerbottanieri. Poi andiamo con la leggendaria. È indifferente. Ok. Andiamo col campione. Oh, mo' sono quattro di file e troviamo la regina, eh. Quattro di file e troviamo la regina. Infatti adesso non l'abbiamo trovata. Andrei a prendere, ragazzi, il re degli scheletri. E quindi questa è questa cesta. Ma adesso vi voglio fare un calcolo, regà. Molto tattico. Allora, noi abbiamo otto jolly leggendari. Ok. Tra l'altro abbiamo anche un libro dei libri. Per quello non voglio più prendere cavaliari d'oro. Perché poi andrò ad utilizzare questo. Per portarlo qua al quattordici. Giusto per farvelo sapere. Abbiamo otto jolly leggendari. E quante carte delle carte leggendarie ci mancano? Sei, nove, eh, quattordici, diciannove. Niente. Perché se avessi avuto abbastanza jolly per portarle tutte ad avere abbastanza carte per portarle poi al quattordici. Io d'ora in poi mi prendevo soltanto quelle che mi davano l'oro. Perché tanto i jolly per portare al quattordici le avevo per tutte. Questa è Pandora se si è sentita. Però purtroppo non possiamo fare di queste cose, ragazzi. Allora, qui andrei di sgherri. Ok. Direi che ci sta. Qui di arcieri. Va bene. Qui, ovviamente, lo spiritello della cura. Qua è indifferente. Andiamo di leggendaria. Vediamo adesso tra le varie leggendarie quale ci capita. Eh, vabbè, niente, regà. Non ci capitano mai quelle quattro che dobbiamo ancora trovare. Poi, dai, dai, re degli scheletri. Dai, re degli scheletri. Sì! Let's go, ragazzi. Ma sbaglio? O comunque il Cavaliere d'Oro sta uscendo sempre, in qualche modo. Tra l'altro, regà, questa furbata che volevo fare con le carte leggendarie la possiamo fare con i campioni. E vi spiego perché. Avendo già il libro dei libri che utilizzerò per il Cavaliere d'Oro, a me non serve più scegliere il Cavaliere d'Oro. Quindi se mi dovesse capitare la scelta Regina e Cavaliere d'Oro, io mi vado a prendere la Regina perché almeno mi faccio 40k di oro. Tanto il Cavaliere d'Oro, ragazzi, me lo vado a maxare tramite il libro dei libri. Queste cose, regà, le dovete sempre tenere presente quando andate a fare sti calcoli perché vi aiuta molto nell'ottimizzare tutto quanto. Comunque, andiamo di Gang di Goblin, qui ovviamente di estrattore. Di qua è indifferente, anche di qua è indifferente. Vediamo un attimino le leggendarie, che cosa ci uscirà fuori. Attenzione! Di nuovo no, di nuovo no. Niente, niente leggendaria che purtroppo possiamo ancora, dobbiamo anzi ancora trovare. Regà, a me va benissimo. Cioè, a me finché dare degli scheletri che me lo faccia trovare in combo con il Cavaliere d'Oro o con la Regina è uguale. La cosa che cambia è ovviamente la pizza che devo mangiare. Quindi, boh, vabbè, ok. Cioè, ne abbiamo trovato. Allora, abbiamo fatto le prime due chest, niente. Poi tre di fila. E adesso mi sa che siamo di nuovo a tre o quattro di fila dove non trovo la Regina. Pazzesco, ragazzi. Cioè, se io fossi stato qui a cercare solo la Regina, stavo impazzendo. No, di nuovo due rare che posso già portare al 14. Questo non va bene, regà, perché con le rare siamo messi veramente male. In realtà, anche un po' con le comuni, eh. Rare e comuni, regà, si stanno dimostrando quelle più difficili da poter portare su. Qui è indifferente, ma ci andiamo a prendere il Gigante Elettrico che almeno ci dà i punti stella. Stessa cosa per quanto riguarda le guardie. Ci stiamo facendo una bella scorpacciata di oro, eh. Ci voleva proprio, ragazzi. Oltre che per le carte, anche proprio in generale, proprio per l'oro, come vi stavo dicendo. Fantasma Royale obbligatorio. Siamo stati un po' sfigati con le leggendarie, secondo me. Oh, eccola di nuovo la Regina. E come vi stavo dicendo prima, madonna, regà, sembra fatto apposta. Non andrò a prendere il Cavaliere d'Oro, bensì andrò a prendere la Regina. Proprio per quello che vi stavo spiegando prima. No, regà, si è tutta... Rotta. Cerco di piegarla così? Eh, ci proviamo. Ha provato a rompersi, eh. Ci ha provato a rompersi, ma ce l'ho fatta a gestirla, dai. Andiamo con l'ultimo boccone di quello che è stato il quinto pezzo di pizza? Sì, mi sa il quinto. Ok. Allora, andiamo di Regina. Facciamoci questa scorpacciata. Anche 2.000 punti stella. 40.000 di oro, regà. Ci faranno comodissimo. E andiamo avanti con l'ultimo baule del re leggendario, raga. Tra l'altro che carte fortunate abbiamo? No, non mi interessano. Quindi neanche avrebbe senso andare a shoppare un baule fortunato, un baule cangiante. Dai, va bene così. Allora, ultimo baule del re leggendario. Allora, Jolly, che anche di questi ci sono fatti una bella scorpacciata. Quindi poi preparatevi perché nei prossimi giorni se non arriveranno dei video dove andremo a potenziare altre carte. Anche perché oltre che di Jolly, eccetera, e di carte, come dicevo, ci sono fatti sta scorpacciata di oro. Qui andrei di barbari. Anche perché i draghi d'ossa li utilizzo poco. Li utilizzo veramente poco. Qui andrei di torre bombardiera perché la utilizzo di più rispetto agli scaricuccioli. Qua è indifferente. Dai, se fossimo stati un po' più fortunati con le leggendarie, e meno male la cimitero, forse saremmo riusciti ad avere abbastanza carte per poterle portare tutte al 14. Però mi sei, non abbiamo trovato così tante. E chiudiamo in bellezza per due motivi. Il primo perché così posso mangiare altra pizza. Almeno arriviamo a sei fette, quindi ci avviciniamo ad una pizza intera. Ma soprattutto il re degli scheletri, ragazzi, perché adesso anche lui lo posso portare al 13. Quindi lui sarà al 13. Il cavaliere d'oro lo potenzierò al 13, ma soprattutto poi andrò ad utilizzare anche il libro dei libri sul cavaliere d'oro. Molto interessante questa situazione. Anche perché poi, in futuro, con tutti i gestopening che andrò a fare, a questo punto mi farò davvero una scorpacciata di oro con tutti questi campioni maxati. Poi per il re degli scheletri ci vorrà tempo. Però, almeno, per adesso... Comunque, ragazzi, vi dico, prima ho preferito fare così. Eh, niente, la mozzarella tiene bloccata le patatine. Ok, quelle un po' più critiche mi sa che le abbiamo tolte. No, no, vedete, mi si spezza poi completamente tutta la pizza. Ah, vedi? L'ho spilata. Ok, anche se penso che ormai il danno l'ho fatto. Ma ci provo comunque. No, regà, così mi si spezza. Eh, allora facciamo tipo così. Ok. No, è caduta la salsiccia, ma ora la recuperiamo. Stiamo per finire, ragazzi. Regà, la pizza è buona, ma sto fatto che si sfalda troppo facilmente con le patatine mi ha triggato da morire, soprattutto perché la sto mangiando con un po' di complicanze essendo in postazione. Ultimo boccone, tutto insieme. Ce la farò a mangiarlo in un sol boccone? Non lo so. Detto questo, ragazzi, re degli scheletri. Veramente, sui campioni non ho nulla da dire. Abbiamo trovato la regina nei momenti giusti. Comunque ci ha fatto mangiare un bel po' di pizza, perché alla fine abbiamo mangiato sei fette. Io addirittura avevo preso una pizza in più. Comunque, raga, ovviamente verrà mangiato tutto, non vi preoccupate. Abbiamo avuto un ottimo riscontro per quanto riguarda i campioni, perché noi adesso potenzialmente li possiamo portare tutti e due al 14. Perché potenziato uno, potenziato l'altro, ho un libro dei libri e prossimamente poi vedremo magari come portare anche il re degli scheletri. Purtroppo il libro dei libri che ho è quello che ho già riscosso dal pass royal, quindi in caso devo aspettare o un'offerta o la prossima stagione. Ma in qualche modo faremo, insomma, non vi preoccupate. Detto questo, raga, vi ricordo, codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarmi. Lasciate un bel mi piace per altri video con il cibo, consigliandone magari anche altri sotto nei commenti con che cibo farlo, in che occasioni mangiare, perché non per forza deve essere un chest opening anche in altre situazioni. Mi raccomando, importantissimo nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!